Restituiamo Fano un pezzo di storia. Con queste parole è stata annunciata oggi la riapertura del cinema Masetti, inaugurato in 4 giugno 1916 e chiuso dal 31 maggio 2013. Dopo i lavori di restyling previsti all'interno dell'edificio di Via Don Bosco, già dal prossimo autunno, il cinema tornerà ad accogliere sette giorni su sette studenti, fanesi e turisti. La gestione è stata affidata alla Fondazione Gabbiano di Senigallia, già proprietaria di altre strutture, emozionato e soddisfatto Don Antonio Ascenzo, direttore dallo scorso settembre del centro Don Orione. È stato bellissimo proprio il clima di intesa, di collaborazione e convergenza sugli obiettivi e quindi siamo riusciti a portare l'indice di pochi mesi a termine questa operazione. Dunque una nuova vita per il cinema nel quale, grazie a un investimento di 100.000 euro, verranno sostituite le poltrone e si punterà su un ammodernamento tecnologico per un'acustica migliore. Alcuni lavori sono già partiti e a metà luglio verranno svelati tutti i dettagli del progetto che ha anche una forte valenza sociale, come sottolineato dal presidente della Fondazione Don Gesualdo Purziani. Sì, molto, molto. Il cinema è una socialità perché si arriva presto, si parla insieme, poi si vede il film, poi spesso noi porteremo anche i registi, porteremo anche persone importanti su quel tema. I nostri film molte volte sono scelte specialmente nei giorni feriali, saranno film a tema, per cui chiameremo anche a livello nazionale, a livello regionale. Quindi sarà molto bello, crescita di mentalità che ce n'è tanto di bisogno oggi. Ad illustrare il progetto e le collaborazioni è stato il braccio operativo Carmine Imparato, il programmista, annunciato la costituzione di un gruppo di giovani, tutti fanesi, già al lavoro sull'attività cinematografica. Il lavoro deve essere sinergico con l'intera struttura perché il cinema non deve andare avanti da solo, nessuno lo vede come un unico cavallo che corre in una pratteria deserta, ma deve essere in collaborazione insieme a quella che è la casa per ferie, il centro sportivo, l'oratorio. Insomma, cercheremo di fare quanto più rumore possibile mettendoli tutti insieme per offrire alla città ovviamente un'offerta molto più che variegata. È una bella giornata, ha commentato invece il sindaco Seri, che ha ricordato le tante esperienze vissute al Masetti, il primo cinema fano e il luogo di tanti eventi di qualità, come il Pinocchietto d'Oro, un concorso canoro degli anni 60 dedicato ai bambini. Beh, il cinema Masetti è stato sotto certi aspetti un punto di riferimento. È un'emozione sapere che ritornerà a disposizione della città e dall'altra, come sindaco, penso sia una gran bella notizia, anche considerato il periodo che stiamo vivendo.